la timetable e il momento di Simone Orsi con un talk legato a OCA, la Odu Community Association. C'è da dire che Simone è uno dei membri storici della community italiana, adesso internazionale, lui si è considerato che porta la nostra bandiera in OCA, per cui non mi dilungo più di tanto, nel suo video introduttivo ci sarà anche la sua presentazione, noi ci rivediamo dopo per la sessione di domande e risposte. A te Simone! Ciao a tutti, benvenuti a New Talk. Il titolo di questo talk è Open Source Centric Process and Why It Should Be The New Normal, che vuol dire l'open source al centro dei nostri processi di sviluppo e perché dovrebbe essere la nuova normalità. Le slide saranno in inglese ma il talk sarà in italiano, ci tengo a precisare. Rendere in inglese facilita la condivisione con il resto della community. Ad ogni modo farò sì che tutto sia chiaro. Cominciamo! Un paio di parole su chi sono. Io sono Simone Orsi, ho 38 anni, vivo a Roma, anche se, come si capisce dall'accento, non sono affatto romano. Sono uno sviluppatore Python full stack da circa 12 anni, uno sviluppatore Odoo da circa 11 anni, grazie anche alla visione e lungimiranza di Davide Corio, che voi tutti probabilmente conoscete, che all'epoca, nel 2009, decise di investire su OpenRP versione 5. Sono un membro del board dell'OCA, da gennaio di quest'anno. Sono un adepto dell'open source, ogni progetto sul quale ho lavorato, sia personale che a livello lavorativo, aziendale, ha sempre avuto a che fare con l'open source. Fra i miei primi contributi in ambito community Odoo, all'epoca non era ancora OCA, posso citare Report OpenOffice, che oggi è Aereo Report, e WebExport View. Questi due moduli li mettiamo da parte perché mi foreranno l'esempio per la parte successiva. Ho lavorato negli ultimi quattro anni a Camp2Camp, prima come team leader, e poi come manager degli sviluppatori del dipartimento business, che è quello che si occupa di Odoo. e per cui sono diventato un freelance dal maggio di quest'anno. Il che per me è una sfida, e come dice Luc Morer, amo le sfide. Cominciamo a vedere quali sono i pro, i risvolti positivi, dell'essere open, e di mettere l'open source, e una mentalità open, all'interno dei nostri progetti. Il primo fra tutti, sicuramente, è la condivisione dei costi e degli sforzi. All'interno dell'ecosistema, dei moduli della community, possiamo trovare tantissimi moduli fatti bene, che ci consentono, senza fare alcuno sforzo di sviluppo, magari sì di configurazione, ma non di sviluppo, di coprire tutta una serie di esigenze in svariati ambiti, dagli acquisti alle vendite, al magazzino, al POS. E sono tutti i moduli che sono lì, disponibili per tutti, e chiunque li può utilizzare e scaricare. I costi di manutenzione sono sicuramente minori. Vi faccio un esempio. I moduli di cui ho parlato prima, di cui ho accennato prima, WebExportView e ReportOpenOffice, quando io li sviluppai, credo, nella versione 6.1 di OpenRP, erano belli, la gente ha cominciato a utilizzarli, tutti contenti, eccetera, eccetera. Dopodiché io me ne sono quasi completamente disinteressato, se non per fare review di eventuali modifici o di migrazioni. Questi due moduli sono arrivati fino ad oggi, senza che io abbia dovuto migrarli alla 7, alla 8, alla 9, alla 10, alla 11, alla 12 e alla 13. Perché? Perché sono stati rilasciati a livello di community. E quindi la community se ne è fatta carico. Provate voi a considerare questi due moduli, magari WebExportView è abbastanza piccolo. ReportOpenOffice era abbastanza complicato, è stato anche impegnativo. Per cui, provate a immaginare il costo che la mia azienda all'epoca, DomSense e Agile, non hanno dovuto sostenere per portare avanti questi due moduli, in tutte queste versioni. Quindi, migrazioni. La manutenzione, che non vuol dire soltanto migrazione, ma vuol dire anche bug fix, aggiunta di nuove feature, piccole migliorie, e perché no anche refactoring, quindi riscrittura da zero di alcune parti, perché magari vengono migliorate le prestazioni, eccetera, eccetera. Tutte queste cose non sono più a carico solamente nostro. Sono a carico della community. Magari poi ci troveremo comunque noi a dover fare la migrazione, perché magari il modulo ci serve prima su un'altra versione, oppure perché siamo noi che abbiamo riscontrato il baco e dobbiamo risolverlo subito per il nostro cliente. Però, vado a sé che la maggior parte dei casi, lo sforzo sarà condiviso. L'altra cosa importante è l'unificazione dell'omogeneità di come si scrive il codice e di come viene documentato e anche di come viene concepito. Quindi, avendo l'omogeneità, è facile che chiunque debba approcciarsi a questo modulo piuttosto che a un altro, o a un set di moduli piuttosto che a un altro, sappia come comportarsi. Perché il design di base, o meglio, il concetto di base, i presupposti sui quali si fondano lo sviluppo di questi moduli, sono gli stessi. Allo stesso tempo la documentazione, che per carità, in genere nel mondo open source è sempre piuttosto scarsa, però comunque è sempre piuttosto omogenea e quantomeno so dove trovarla. Tutto questo ha dei risvolti positivi anche in altri aspetti della vita aziendale. Ad esempio l'onboarding. Se io devo inserire un nuovo team, scusate, un nuovo membro nel mio team di sviluppo, il fatto che sia tutto già là, è tutto già riconosciuto, ci sono degli standard, c'è una documentazione che ti spiega il come contribuire, eccetera, eccetera, fa sì che l'onboarding di questa persona, specialmente se viene presa all'interno dell'ecosistema OCA, della community, venga facilitato, sia più veloce. Quindi la, diciamo che la learning curve, quindi la curva di apprendimento, perché deve entrare nel progetto, diminuisce. C'è anche questo aspetto per quanto riguarda i fornitori, i partner tecnologici con i quali andiamo a lavorare. Se l'80% dello sviluppo che faccio è open, se io cambio partner tecnologico, questo nuovo partner tecnologico, probabilmente, se viene dalla community, sa già esattamente come muoversi per manutenere o per modificare questo 80% di parte tecnica, tecnologica del mio progetto. Allo stesso tempo, questo facilita il recruiting, perché forse possiamo considerare GitHub come il LinkedIn, il miglior LinkedIn degli sviluppatori. Perché qualunque azienda, se vuole sapere cosa fa Simone Orsi e quanto, cosa ne sa Simone Orsi in merito a UDU, in questo caso è sufficiente che vada su GitHub e faccia una piccola ricerca appunto dei miei contributi, delle review, eccetera, eccetera, e si andrà conto che sono probabilmente sufficientemente esperto per il profilo che stanno cercando. Tutto questo comporta imparare informazioni e nozioni praticamente gratis, non proprio del tutto, ma gratis. Ad esempio, facendo la review di un Apple Request, io imparo, posso imparare tante cose, posso imparare che sta per essere risolto un problema, fixato un bacco o un determinato modulo, posso capire che stanno introducendo una nuova feature, posso capire come funziona questo modulo e come si relaziona questo modulo magari ad altri moduli che ne sono una dipendenza e quindi poi se vado a controllare quelle dipendenze capisco anche come funzionano quegli altri moduli di cui magari non ho mai sentito parlare e che un domani mi potrebbero interessare per risolvere o per assolvere a determinati requirement dei miei progetti per i miei clienti. Allo stesso tempo se sono dall'altro lato quindi se io propongo una pull request una richiesta di modifiche per un determinato modulo posso ricevere dei feedback e quindi posso capire se ciò che sto facendo è corretto o no, se sto introducendo magari dei problemi di performance, se sto facendo qualcosa che introduce un bacco per quanto riguarda la sicurezza e quindi a mia volta imparo come fare le cose al meglio e quindi questo con me è un punto fondamentale cioè l'imparare è fondamentale in questo ecosistema. Altri punti positivi tutto quello di cui ho parlato finora ha delle conseguenze molto importanti la prima fra tutti è il livello di expertise sia degli sviluppatori ma nel complesso anche dell'azienda stessa o del team dell'azienda cresce cresce perché come dicevo è un costante è un costante flusso di nuove idee di nuove informazioni che arrivano all'interno del team e quindi la mia esperienza cresce di pari passo mentre contribuisco alla community posso prendere parte anche alla creazione degli standard che che vengono utilizzati che vengono definiti per migliorare la qualità e il workflow a livello di community e quindi di riflesso posso essere posso diventare non famoso ma sicuramente riconosciuto per questa partecipazione per questo lavoro fatto insieme alla community allo stesso modo possono arrivare delle opportunità di lavoro che probabilmente se se avessi sviluppato solamente in privato senza pubblicare niente non avrei mai ottenuto a livello poi di azienda ma anche di freelance possono arrivare dei lead quindi delle buone opportunità per nuovi progetti e in tutto ciò un'altra cosa molto importante è lo stare al passo coi tempi perché se io costantemente seguo l'evoluzione di ciò che avviene nella community o anche ne sono nel core do io sono al passo dei tempi con l'evoluzione del core quindi so cosa sta cambiando quale nuove feature hanno introdotto quali bug fix sono stati introdotti e quindi so che devo magari aggiornare l'istanza di un cliente il servizio di un cliente perché gli risolvo un problema o un possibile problema che magari non abbiamo ancora riscontrato ma probabilmente riscontrerà nel futuro so come si sta evolendo evolvendo anche l'ecosistema della community quindi che ad esempio nel repository WMS per la gestione del magazzino è arrivata una nuova app per gestire gli scanner e diciamo il flusso di beni nel magazzino quindi questa è questa probabilmente una delle cose più importanti cioè stare al passo che tempi con l'evoluzione di Odoo e con l'evoluzione della community mi consente di risparmiare tantissimo tempo dopo e di dare una prestazione di più alta qualità ai miei clienti perché se io sono in grado di prevenire i bachi o di proporre nuove feature ancora prima che il cliente mi palesi un problema o una nuova richiesta beh penso che riusciamo a fare un'ottima figura ovviamente non sono tutte rose e fiori quindi ci sono anche degli aspetti negativi il primo che possiamo individuare è uno uno svantaggio competitivo in parte dovuto a maggiori costi di di concept quindi proprio di studio di realizzazione di pianificazione dei progetti perché come dicevamo prima ci vuole bisogna impiegare del tempo in più e inoltre il lavoro che noi facciamo nel caso appunto magari si rilasci un nuovo modulo un nuovo feature potrà essere utilizzato anche da altre persone magari dai nostri competitors può succedere che il il un modulo che noi stiamo utilizzando che magari abbiamo creato noi stessi venga aggiornato riscritto parzialmente migliorato o migrato con dei cambiamenti cambiamenti che di cui noi non sappiamo niente se appunto non siamo non abbiamo seguito l'evoluzione e quindi questo può comportare un lavoro maggiore ad esempio io aggiorno l'istanza di un cliente e si rompe allora devo capire che magari è cambiata una riga di codice nel modulo tal dei tali che è una dipendenza del mio e quindi devo a quel punto impiegare del tempo per trovare una soluzione un altro problema che può che può arrivare è ed è già successo in passato ci sono delle feature che vengono introdotte nello CA ben prima che vengono introdotte nel core di O2 o in O2 Enterprise e a volte è capitato che quantomeno le idee vengano prese fatte proprie da 2SA riscritte completamente da zero e introdotte nel in O2 Enterprise quindi a quel punto il vantaggio che avevo come community e che era condiviso con tutti i miei partner della community è in realtà finito nella versione a pagamento di O2 e questo potrebbe essere dal punto di vista strategico un problema ci sono sicuramente dei momenti in cui potrebbero arrivare delle richieste di lavoro delle offerte di lavoro ai dipendenti che diciamo il risvolto negativo visto dall'altra parte di quello di cui ho parlato prima cioè il recruitment se da un lato ho molta più facilità a fare recruitment dall'altra i miei stessi dipendenti potrebbero avere delle offerte di lavoro da competitors e un altro problema che è endemico di qualunque comunità open source è il il fatto che il contributo cioè meglio il non tutti contribuiscono probabilmente solo un 10% 20% massimo degli utilizzatori di questo vasto ecosistema di moduli che una community mette a disposizione sono dei contributori quindi danno qualcosa indietro quindi utilizzano il nostro il nostro lavoro e ci danno qualcosa in cambio che può essere documentazione che può essere review che può essere qualunque tipo di feedback quindi l'essere open ci ci mette davanti delle sfide innanzitutto non possiamo o meglio è molto sconsigliato partire così a spada tratta e dire ok facciamo tutto così questa soluzione questo problema lo risolviamo così facciamo un modulo che fa così e cosa no non funziona così la cosa migliore da fare in questi casi è scavare quindi cercare di capire cosa c'è già là fuori e quindi analizzare a priori cosa c'è di disponibile e come dobbiamo adattare il nostro lavoro a quello che è già disponibile e quindi bisogna leggere studiare bisogna internalizzare determinate regole e convenzioni e strumenti che sono utilizzate dalla community perché se vogliamo ad esempio se ne abbiamo capito che l'80% di quello che vogliamo fare c'è già un 15% dobbiamo farlo dobbiamo aggiungerlo noi contribuendo nella community e un 5% magari configurazione o moduli privati che vanno a correggere determinati comportamenti questo 15% che vogliamo contribuire deve per forza sottostare a quelle regole quelle convenzioni altrimenti non verrà mai accettato all'interno della community questo ovviamente è al fine di garantire la giusta qualità e sicuramente bisogna per fare questo bisogna trovare le relazioni le sovrapposizioni di funzionalità le interferenze anche possibili fra determinate feature o determinati moduli quindi devo capire che se faccio se sviluppo il mio modulo come ho pensato di fare potrei avere dei problemi nell'integrazione con degli altri moduli che magari sto già utilizzando e un altro aspetto importante è la ricerca del dove cioè dove trovo questi moduli dove posso cercare per capire se ci sono determinate funzionalità dove posso proporre i moduli nuovi che voglio aggiungere non sempre questo è chiaro quantomeno a chi è un neofita del lavoro nella community e questo ovviamente porta tutto ciò porta a delle discussioni discussioni per capire se il nostro modulo è qualcosa di sensato o di o che abbia valore introdurlo nella community per capire se va in un posto piuttosto che un altro per capire se il modulo così come l'abbiamo pensato è troppo monolitico e va diviso in moduli più piccoli che possono essere poi riutilizzati in ambiti diversi indipendentemente quindi c'è tutta una discussione dei bot risposta che possono portare via del tempo e quindi dobbiamo prevederle dobbiamo prevedere il tempo necessario per questa discussione nelle nostre stime che vuol dire sia costi che rispetto delle deadline nell'essere open otteniamo sicuramente qualcosa in più possiamo partecipare nelle community of interest quindi in comunità di intenti ad esempio ci troviamo a lavorare magari con persone al di fuori della community che magari non so dobbiamo lavorare su una verticalizzazione per gli hotel e entriamo in contatto con persone che non hanno a che fare con Odoo ma che in un qualche modo sono entrati in contatto con esso e hanno portato la loro expertise in merito appunto agli hotel nel nostro progetto e le local communities quindi le comunità locali come può essere appunto lo sia Italia ne sono un buon esempio perché nelle community delle localizzazioni più o meno tutti quelli che vi partecipano hanno uno scopo unico e cioè migliorare le funzionalità di Odoo nell'ambito di questa comunità locale quindi si creano delle sinergie perché tutte queste persone questi contributors che siano esterni o interni dovranno dialogare fra di loro e quindi creare delle sinergie che possono poi portare ad avere nuove collaborazioni per progetti futuri perché no e si arriverà anche più facilmente probabilmente all'individuazione di nuovi impiegati quindi nuove risorse che possiamo inserire nel nostro team e alla fine perché no nuovi amici perché quando si partecipa agli eventi specialmente si conoscono un sacco di belle persone e si hanno delle interazioni umane che sicuramente aiutano a crescere soprattutto perché ci danno dei nuovi punti di vista un ultimo concetto importante è la agility versus maturity quindi essere agile piuttosto che maturo stabile Linux Torval quando rilasciò pubblicamente Linux quello che andava cercando non era soltanto l'essere aperto e trovare nuovi contributi ma era più che altro la ricerca di un feedback il più veloce possibile early feedback un feedback che arriva il più presto possibile e quindi il concetto è release early and often che vuol dire rilasciare spesso e velocemente in maniera tale da capire tramite il feedback di chi sta intorno a noi e che partecipa con noi nella community se stiamo andando nella giusta direzione nel far ciò come ho detto bisogna comunque rispettare delle regole per poter contribuire in maniera qualitativa e tutto ciò chiaramente ha un impatto importante nelle decisioni nelle decisioni e nelle scelte del design dei nostri progetti comunicazione i nostri canali di comunicazione sono principalmente le mailing list ce ne sono per vari settori quindi per chi è membro chi è contributor per chi fa parte della localizzazione italiana piuttosto che tedesca o francese e anche per funzionalità quindi per il magazzino per l'accounting eccetera e in questo link trovate il rimando a tutti i gruppi poi ovviamente ci sono GitHub issues quindi la piattaforma GitHub ci offre la possibilità di porre delle domande piuttosto che aprire dei bucket nelle azioni di bucket magari hai testato qualcosa e hai trovato un problema GitHub issues è il posto giusto abbiamo introdotto una chat principalmente per gli OCA Days e è su Discord li trovate il link vi invito a partecipare e a fare a dare anche il vostro contributo o a fare le domande che ritenete opportune un ultimo step velocemente il tempo è tiranno bisogna essere per essere riconosciuti e diventare appunto uno dei diciamo dei pilastri ma anche dei contributi maggiori della community è essere gentili essere umili e cercare di aiutare gli altri bisogna sempre partire dal presupposto che anche se siamo ci riteniamo delle star non siamo sicuramente i migliori del mondo e sicuramente ci sarà sempre qualcuno che ne sa un pochino più di noi quindi bisogna sempre partire da un livello di umiltà più elevato e o più basso e cercare di porsi nelle condizioni di chi non sa come muoversi in questo ecosistema non bisogna dare per scontato che chiunque arrivi su GitHub ad esempio che sappia come muoversi che sappia quali sono tutte le regole che sia già arrivato al sito della community e abbia già studiato e imparato come si possa contribuire per cui bisogna cercare di essere attivi contribuire fare domande condividere le proprie idee in un continuo in un continuo flusso di di idee di feedback che ci consentono di crescere ma consentono di crescere anche la community e poi perché no prendere un ruolo attivo che può essere far parte di un project theory committee che sono quei comitati quei team che si occupano di particolari funzionalità e repository oppure diventare un delegato o perché no un board member come ho fatto io in ultimo tutto ciò fa parte del rispetto del nostro code of contact che abbiamo rilasciato durante gli OCA days un'ultima cosa cosa possiamo fare noi comunicazione 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 bisogna far sì e questo è un invito a tutti i membri della community bisogna far sì che chi è all'esterno della community percepisca tutti i valori e i risvolti positivi di cui ho parlato in questo talk per cui serve l'impegno di tutti a far sì che l'immagine della community all'esterno sia quella corretta che i valori fondanti e i risvolti positivi del partecipare a questa community siano chiari a tutti vi lascio con un paio di link di risorse qui trovate il link a alcuni blog post e articoli interessanti e anche come diventare sponsor member o partecipare agli eventi domande se non ci sono domande comunque io vi ringrazio e ci vediamo online ci sono le domande ci sono le domande buongiorno ciao Andrea mi senti? sì ti sento ok perfetto ah intanto grazie per il tuo contributo sempre importante diciamo questo è un appuntamento che vi rinnoviamo ogni anno quello con OCA iniziamo nel 2014 invitando Joel poi abbiamo continuato anche l'anno scorso con Daniel Reicher quest'anno l'italianissimo amico Simone beh grazie a voi per l'invito prima di tutto inaspettato fa piacere diciamo rilevare che quello che tu dici è in propostanza tutti i nostri valori che quotidianamente noi cerchiamo di diffondere di divulgare insomma sono praticamente un cove in colla noi seguiamo praticamente gli stessi percorsi come l'associazione O2 Italia rispetto a quelli di OCA e questo diciamo è fondamentale sì se posso dire una cosa al riguardo il punto è che almeno da quello che ho capito soprattutto interagendo con persone che sono lì fuori della community è che questo questa nostra visione per noi che ci siamo dentro e che magari siamo come nel mio caso smanettoni diciamo una cosa che diamo per scontato mentre per chi è all'esterno è difficile capire esattamente cosa vuol dire partecipare alla community appunto quali sono poi i risvolti positivi non solo dal punto di vista tecnico diciamo che tutto in realtà tutto il mio parlare il mio discutere in questo talk era proprio rivolto a far capire l'importanza di questa cosa soprattutto per noi cercare di diffondere diciamo dobbiamo tutti essere una sorta di messia e diffondere bene questo messaggio esatto io condivido appieno diciamo l'ultima slide comunicare 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 che è un po' quello che stiamo cercando di fare noi nel nostro piccolo con l'associazione italiana perché è importante far comprendere che dietro questo mondo c'è della professionalità c'è del valore c'è dell'impegno e soprattutto della passione che ognuno di noi diciamo da quotidianamente nella chat praticamente è scoppiata la solida diatriba legata al mondo dell'open source per esempio c'è Davide che dice secondo te cosa porta un'azienda che si occupa di isolarsi ed eventualmente implementare ad esempio per proprio conto una localizzazione italiana diversa da quella ufficiale personalmente che ti devo dire mancanza di visione sostanzialmente poi mettici magari una punta di egoismo e magari di paura di essere giudicati nel senso che è chiaro che nel momento in cui io espongo il mio lavoro a delle persone terze è normale che io possa ricevere del feedback però il punto è cosa ne faccio di questo feedback e cioè se io lo faccio con l'intenzione di migliorarmi allora in quel caso ha un aspetto positivo se invece io sono un po' prevenuto e tutto ciò che mi arriva come feedback soprattutto se magari è correttivo e lo prendo in maniera negativa è chiaro che questo mi blocca e quindi magari la prossima volta non lo faccio io tra l'altro ho notato per esperienza che la maggior parte delle persone che si avvicina al nostro mondo provenendo dal mondo closed ha questa difficoltà invece diciamo chi si è spostato da un modello open source ad un altro modello open source in buona sostanza non ha diciamo questo ostacolo cioè non prende mai sul personale quello che gli viene si è desiato si è chiaro è chiaro perché sono due modelli completamente differenti agli antichi diciamo guarda ti dirò dipende anche in realtà dal settore perché io prima di lavorare praticamente al 100% come faccio adesso da qualche anno con Odoo ho lavorato tantissimo nella community Plone la community Plone è completamente community driven cioè il software Plone è di proprietà della Plone Foundation e va avanti solo grazie alla community non c'è un'azienda che porta avanti lo sviluppo più importante e la differenza che ho notato passando dalla Plone community all'Odoo community è proprio questo questo cambio di prospettiva cioè mentre Odoo ovviamente è un software che si inserisce in un contesto più diciamo più imprenditoriale quindi per gestire insomma come tutti sapete insomma dei flussi aziendali insomma delle cose molto più importanti rispetto a magari un portale o una internet e quindi ti vieni in contatto con persone di un altro livello che probabilmente fino a quel momento non avevamo mai sentito parlare di open source e che o magari ne avevamo sentito parlare però comunque sono abituati a un mondo business a un mondo corporate dove tutto è privato e ognuno si sviluppa in casa il suo piccolo pezzettino e la sua piccola verticalizzazione e quindi è ancora più difficile ti faccio un'ultima domanda da parte di Marcello richiedi che sia giusto tenere in privato una parte del codice che magari ha del know-how innovativo magari per un periodo di tempo limitato e lui fa l'esempio del settore dei medicinali in questo caso allora ovviamente cioè parliamoci chiaro il codice privato c'è e ci sarà sempre ok è impensabile che si lavori per un cliente e si possa diciamo rilasciare tutto diciamo che se noi arriviamo a rilasciare l'80-90% forse anche il 95% di quello che facciamo direi che è sufficiente il restante parte è chiaro che può restare privata specialmente se parliamo magari di algoritmi particolari se parliamo di insomma tutto ciò che può essere specifico per il business di quel particolare cliente tutto questo bisogna sempre trovare una media bisogna sempre analizzare sì esatto un equilibrio e quindi capire cosa ha senso pubblicare e cosa no chiaro per me personalmente io ritengo che insomma che l'equilibrio sia nel prendere e nel cercare di dare quanto più possibile in base alle proprie capacità ovviamente mentre prendere solamente e e sbagliare sì ma ti vorrei fare un esempio se hai ancora un minuto ad esempio con Camp2Camp abbiamo sviluppato un'applicazione che probabilmente avete visto durante gli OCI Days che è veramente importante e ci ha portato via un sacco di tempo tanto tempo tante risorse che hanno portato appunto la barcode app per il magazzino cioè questa cosa è una diciamo è un'applicazione che avremmo potuto che Camp2Camp avrebbe potuto ottenere privata e fare tanto marketing e rivenderlo e rivenderlo e rivenderlo in maniera privata e questo avrebbe portato sicuramente ha una probabilmente ha un guadagno maggiore però la decisione strategica di Joel è stata io lo rilascio pubblicamente perché manutenere questa cosa ok da soli è un impegno molto grosso e se io voglio che si diffonda se io voglio che il resto della community sappia cos'è com'è come funziona e possa aiutarmi a migliorarla devo per forza rilasciarla chiaro è una scelta strategica condivisibile ovviamente va bene Simone io ti ringrazio abbiamo finito in ossa abbiamo sporato leggermente ma il volto mi dispiace mi farà una colpa ti saluto e grazie per essere stato qui con noi in questa edizione speriamo di insomma di rivederci presto e a questo punto mi ha